È un errore non mantenere le mascherine al chiuso perché questo virus è un virus che si trasmette tramite aerosol e poi queste varianti nuove sono molto infettanti. Il direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia della ASL di Pescara Paolo Fazzi ribadisce l'importanza delle mascherine per scongiurare che la situazione peggiori, anche se da oggi in molti luoghi non è più obbligatorio al chiuso, le mascherine andrebbero sempre indossate per evitare i contagi da Covid-19, in particolare le varianti Omicron 4 e 5 e raccomanda ai fragili di proteggersi con la quarta dose di vaccino. Recentemente io e un collega siamo andati a parlare ad un evento e ci siamo trovati in un aeroporto. Siamo dovuti rimanere dentro una specie di cunicolo per più di un'ora. Ci hanno fatto fare il check lì al gate e però siamo rimasti in 150 dentro questo cunicolo. Faceva molto caldo e la maggior parte non portava la mascherina perché non è più obbligatorio. Io ho avuto Covid quindi non ero molto preoccupato ma il collega non l'aveva avuto e ogni tanto si toglieva la mascherina. E' successo che dopo quattro giorni si è fatto Covid. Parlo di un collega che ha alle spalle 100.000 tamponi eseguiti per Covid e non si è mai positivizzato in due anni e mezzo di pandemia. Quindi al chiuso cerchiamo di mantenere la mascherina anche se qualcuno ci dice che non è obbligatorio. Perché il problema non è tanto in questo momento la malattia da Covid-19. Siamo tutti vaccinati e parliamo di una variante non molto patogena. Il problema è che noi poi diffondiamo l'infezione e magari poi può essere colpito un fragile. E come vediamo dai dati anche quotidiani c'è un numero conglo ancora di decessi legati a Covid e legati nell'ultimo periodo proprio ad Omicron. Questo vaccino sarà pur vero che non ci esenta dall'infezione però si è dimostrato comunque efficace nell'evitare l'escalation verso le forme gravi di Covid-19. Io quindi consiglierei ai fragili di effettuare quarta dose di vaccino. I prossimi mesi dovrebbero essere commercializzati i vaccini più efficaci nei confronti delle nuove varianti.